Un resistore presenta una resistenza R uguale a 470 Ohm ed è alimentato da un generatore di tensione con forza elettromotrice E uguale a 14 Volt. Calcolare la corrente circolante nel resistore. Abbiamo, quindi, un resistore alimentato direttamente da un generatore di tensione. Pertanto, elettricamente, il punto A corrisponde al punto C e il punto B corrisponde al punto D. Ne deriva che, se tra A e B è presente una differenza di potenziale di 14 Volt, anche tra C e D, è presente la stessa differenza di potenziale. Nella legge di Ohm, sono presenti tre grandezze. La tensione, la corrente, e la resistenza. Conoscendone due qualsiasi, è possibile ricavare la terza. In questo caso per il resistore, conosciamo il valore della resistenza, 470 Ohm, e la tensione applicata, 14 Volt. Possiamo rapidamente calcolare la corrente circolante. Applicando la legge di Ohm, si recava la corrente I, uguale al valore della tensione V, diviso il valore della resistenza R. Quindi, 14, diviso 470. Otteniamo una corrente di 0,03 A, cioè una corrente di 30 mA. A, cioè una corrente di 30 mA.